Appena il mio procuratore mi ha chiamato e mi ha detto che ci stava la situazione a Rezzo non ho esitato a dirgli di no, ho detto subito di sì andiamo perché so che società è, so le ambizioni di questa società e niente, sono qui per vincere ovviamente, non ci sono dubbi su questo e spero di dare il mio contributo per portare questa piazza veramente dove merita. Sono nato come trequartista ma all'occorrenza ho anche fatto la mezzala, poi cinque anni fa il mercato di gennaio dalla Torres mi è sposto al Savoia e lì ci stava il mister Papagni che alla prima subito al debutto mi mette in campo come vertice basso a Benevento, poi da lì ho sempre fatto il vertice basso. Sinceramente non vado a guardare la classifica anche perché ci sono parecchie partite da qui a fine campionato quindi faremo di tutto per raccorciare in queste cinque partite da qui a Natale sicuramente dobbiamo fare qualche vittoria. Poi del resto i conti si fanno alla fine, gli otto punti di distacco per me a mio avviso da quello che ho visto ieri in campo possono essere recuperabili. Non avevo dubbi sulla squadra anche perché conosco i giocatori quindi sapevo che venivo in una squadra abbastanza costruita, anzi costruita per vincere e abbastanza forte. Sì sono pronto ma alla fine il mister decide, il mister fa le sue scelte, io sono qui e rispetto ogni scelta del mister. Sì sono pronto ma alla fine il mister.